Buonasera, visualizzazioni e bentornati in questo nuovo video. Ciò di cui voglio parlarvi oggi è particolarmente pesante, forse più di tante altre volte in cui vi ho messo questa premessa. È un po' di tempo che trattiamo alcuni dei video peggiori che esistono su internet, alcune delle cose peggiori che siano mai state messe su internet, e io sinceramente reputo molto interessante farvi da finestra su questi argomenti qui. Anche perché perlomeno do un attimo un senso al mio buttare tempo in questa maniera, comunque ciò che mi avete fatto scoprire questa volta, come appunto avrete capito, non lo conoscevo. Non lo conoscevo e sinceramente stavo benissimo così, perché avere all'interno della propria memoria certa roba sicuramente non fa piacere, ma soprattutto non è un qualcosa che si dimentica facilmente. Il video che tanti di voi mi hanno consigliato, sul quale fare un video per il canale, l'ho visto e giuro su Dio recensito nei vari siti in cui sono dovuto andare a cercarlo, in maniera, cioè veramente come se fosse il video di una ricetta, con la stessa faciluneria. Eppure si tratta di uno dei video più atroci che mi sia mai capitato davanti. Questo video ragazzi si chiama Io chiero acqua, ed è un video, non so nemmeno che aggettivo mettere nel titolo, veramente, perché... avete presente come faccio solitamente il titolo di un video del genere, no? Un po' per meme, un po' no, però capito? Trovo sempre un aggettivo per descrivere bene o male quello che mi sono trovato avanti. Questa volta... cioè... no. Quindi tra poco ve ne parlo, prima che mi dimentichi, perché effettivamente questa roba qua farebbe perdere di vista qualsiasi cosa a chiunque. Lasciate che vi ricordi che la maglia che indosso è di Pampling, la trovate qui sotto in descrizione, avete tutto quanto il link in negozio. In questo momento sul sito c'è il 3x30 con tutte quante le maglie e dalla terza in poi saranno tutte quante a 10€. Non solo c'è questo sconto, ma potete aumentarlo ancora di più utilizzando il mio codice sconto Gematria tutto maiuscolo. Utilizzandolo non soltanto avrete il mio referral, sosterrete il canale, ma risparmierete sull'intera spesa. Quindi dai su Pampling prendete quello che volete già scontato e lo scontate ancora di più. Fatemi sapere ovviamente che cosa avete preso magari su Instagram. Comunque sia, cominciamo a parlare un attimino di questo video che, devo dire la verità ragazzi, piacere non fa parlarvene, è forse una delle prime volte in cui preferirei fare qualsiasi altra cosa. Questo video è opera di un sicario abbastanza famoso in questo ambiente, noto come il clown. La vittima, ora conosciuta come Ghost Rider messicano, era un abitante del comune di Cotia, nello stato di Michoacan. E spero di averlo pronunciato bene, tante volte ragazzi mi correggete la pronuncia, ma io so di avere una pronuncia spagnola terribile perché non l'ho mai studiato. Comunque sia, questo tizio è stato rapito dai sicari del CJNG, comandati da El Clown, boss della piazza di questo cartello. Ed è proprio questo capo, questo sicario, noto come il clown, a mettere in atto in prima persona, ed è raro che avvenga una cosa del genere, tutto ciò che accade all'interno di questo video. Quindi sì, pure oggi ci troviamo davanti a un video di un cartello messicano, e vai! A differenza delle altre volte però, questa volta nel video non è ripresa l'esecuzione in sé per sé, è ripreso più che altro l'effetto. Infatti, anche se nel video non si vede il momento esatto in cui le cose vengono fatte, a causa delle gravi ferite dell'uomo, si ipotizza che sia stato giustiziato pochi minuti dopo e che il suo corpo apparirà da qualche parte nella città nei giorni dopo con un nuovo narcomessaggio del CJNG. Perché questo video si chiama così? Perché effettivamente potresti dirmi in che senso, io che ero acqua, vorrei dell'acqua, comunque si traduce in questo. Ragazzi, questo tizio, cercherò di dirlo in maniera polite, in modo che YouTube magari non mi trita con i missili questo video perché ci sono tutti i presupposti, questo tizio viene scaricato... Avete presente, come dicevo prima, Ghost Rider? Quindi il tizio col corpo tutto quanto normale, poi ha la faccia, un teschio, gli manca praticamente tutta la faccia. Ecco, qua siamo a dei livelli praticamente simili. Infatti, questo boss, questo clown, ha scarnificato tutta la faccia di questo tizio mentre era ancora vivo. E appunto quello che questo tizio urla è questa frase. Voglio dell'acqua, voglio dell'acqua, perché nel senso posso soltanto immaginare quanto una cosa del genere possa bruciare. Penso che sia veramente l'inferno sceso in terra. Questo video in realtà è molto breve, meno male perché se fosse durato un po' di più, addirittura io che sono abituato a vedere questa roba tutti i giorni, non avrei dormito stanotte. Ma non pensate che una cosa del genere possa passare impunita, perché come vi ho spesso detto all'interno di questi ambienti, c'è una dinamica che praticamente è cento volte quella mafiosa. Quindi gente che si fa delle vendette pesanti in questa maniera qui, gente che poi va da quello che ha fatto qualcosa a rifargli la stessa identica cosa, è una sequela di cose che non finiscono più, una sequela di cose che hanno distrutto un paese. E lo leggo spesso, ci sono tanti di voi che magari sono originari di quelle parti o magari addirittura vivono lì che mi confermano queste cose qui. Non che servisse confermo ovviamente, però fa sempre impressione leggerle queste cose qua. E finora non c'è stata alcuna risposta da parte del Viagras, ma dopo la minaccia si teme che la famiglia del Sicario subirà le conseguenze degli attidi e il paiaso del Cigenji e sarà giustiziata dalla nuova famiglia potentissima lì. Ora ragazzi, come al solito, io questa roba non vi invito ad andarvela a vedere. Questi video esistono più che altro per farvi capire prima che cosa c'è dietro una certa sigla, dietro un certo video, senza che abbiate la curiosità di andare in quei posti e soprattutto dare soldi a questa gente perché ci guadagna dallo smerciare questo materiale qui. Oltre al fatto che, come io vi ho detto 300.000 volte, ma non stancherò mai di ripetermi, i cartelli messicani in questa maniera con questi video tendono a fare due cose. Prima tra tutte, far paura agli altri cartelli, far paura alle persone, con delle ragioni tra l'altro, e in questo modo appunto stabilire chi è quello più potente, quello più spaventoso, l'organizzazione più potente e spaventosa. Ma c'è anche un secondo fine, ovvero un qualcosa di più subdolo, però di comprensibile dal punto di vista logico di quello che fanno. fanno queste cose per far sembrare ai più giovani, specialmente su TikTok, questa roba figa. E quindi accalappiare nuovi membri. Questo è il motivo per cui ne parlo, ragazzi. Molto spesso, tante volte, viene detto ah ma queste cose qui non se ne dovrebbe parlare. E no, e no, se ne dovrebbe parlare perché il momento in cui ne parli fai capire la serie di meccanismi che ci sono dietro determinate realtà e le persone sanno che cosa aspettarsi, più giovani o meno. Invece chi produce queste cose qui, ma non soltanto cartace a chiunque produca una cosa del genere, punta al fatto che nessuno sappia dare una spiegazione e che quindi sembra un qualcosa di più affascinante di quello che è. E invece no, perché all'interno di questi ambienti, ragazzi, vige soltanto la violenza più estrema. E non mi stancherò mai di ripeterlo. Statelo nutani da questa roba perché non si torna indietro. Abbiamo visto tante volte, per esempio, la storia di ragazzi che entrano a far parte di questi ambienti e non escono più o se ne escono non escono vivi o magari interi o magari... Escono sciolti. Non si sa. Io sinceramente ne sarei il più alla larga possibile, però, nel senso... Cioè, mi sembra anche stupido dovervi dire non andatevi a mettere in mezzo i cartelli messicani perché c'è gente che si è offesa perché ho detto una roba del genere. Oddio! Va bene, in realtà non è una questione tanto lunga, quindi penso si possa chiudere qui. Ho anche allungato più di tanto il brodo. Fatemi sapere se conoscevate già questo video, fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate e niente, ragazzi, qui sotto in descrizione trovate tutto ciò che può servirvi, tra cui il pampling, i miei TikTok, i miei TikTok Instagram, Discord, Telegram, tutto quanto. Per il resto, grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima. e noi ci vediamo a tutti. Grazie a tutti.